Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscottoni con farina di riso e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di riso, burro ammorbidito, cacao, vanillina, uovo e zucchero semolato. Andiamo via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale lo zucchero e l'uovo. Lo andiamo a frullare per 3 minuti a velocità 5. Andiamo ad aggiungere la vanillina e il burro ammorbidito. Andiamo ad aggiungere il tutto per 2 minuti a velocità 5. Andiamo ad aggiungere il cacao. Andiamo ad aggiungere il cacao. E la farina di riso. Andiamo ad amalgamare il tutto per un minuto e mezzo a velocità 5. Adesso togliamo il composto dal boccale e avvolgiamolo nella pellicola trasparente infarinate e mettiamolo in frigo per 30 minuti. Trascorsi il tempo andiamo a prendere l'impasto e a stenderlo. Posizioniamo sopra un foglio di carta da forno per aiutarci a stendere meglio l'impasto. Bene, adesso con l'aiuto di un tagliapizza andremo a formare i nostri biscotti. Andiamo a rifilare un attimo l'impasto. Adesso andremo a posizionare i biscotti su una teglia rivestita da carta da forno. Dopo aver posizionato i biscotti sulla nostra teglia andiamo a spolverizzarli con lo zucchero a velo. Adesso andremo a infornarli a 180 gradi per 12 minuti circa. I nostri biscottoni sono pronti andiamo a impiattare. Biscottoni con farina di riso e cacao. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.